Verdastri, non posso non rendervi partecipi di quello che è successo venerdì scorso e ve ne renderò partecipi tramite questa rubrica perché mi sembra la più adeguata. Camminavo nel parco di una villa padovana e all'improvviso capto uno strano ronzio arrivare da un albero. Mi avvicino e noto che questo pino è avvolto dallo svolazzare di 20 immenotteri di colore scuro e dà le dimensioni di 2,5 cm. Essendoci un nutrito gruppo di questi immenotteri, con la probabile presenza di un nido all'interno dell'albero, avevo ipotizzato fosse un immenottero sociale e probabilmente appartenente alla famiglia dei vespidi. Non riuscivo a capire quale specie potesse essere. Sono un naturalista e non riuscire a capire chi fosse quella vespa lasciava un vuoto dentro di me. Quindi ne ho presa una e l'ho osservata meglio da più vicino e ho desunto che non fosse un vespide, ma fosse un napoideo, ma di una specie sociale che non conoscevo. Tramite Facebook e un gruppo di abili identificatori denominato Insetti, un fantastico mondo da scoprire, sono riuscito a trovare il bandolo della matassa. Trattasi di Megachiles culturalis, una specie all'ottona arrivata nel 2009 in Italia dall'Asia. Viene anche detta ape della resina, perché preferisce nidificare su alberi resinosi o comunque legno resinoso. E molto spesso i suoi nidi sono vicini a quelle dell'ape carpentiere, il genere xilocopa. Non sembra creare grossi problemi, però studi recenti stanno cercando di capire se possa arrecare disturbo alle nostre specie native impollinatrici. E' un'ape definita solitaria, che applica in realtà una socialità comunitaria, dove un gruppo di femmine crea un unico nido e ogni inquilina bada alla propria cella. Gli apuidei infatti non praticano esclusivamente la socialità tipo quella dell'apis mellifera, ma ne praticano di diversi tipi. I tipi di socialità vengono definiti in base a come viene costruito il nido, a come funziona l'approvvigionamento di cibo, al fatto se sono presenti o meno delle caste. Un altro caso di mancata identificazione è stato risolto. Fatemi sapere se vedete questa app dalle vostre parti, verdastri. E noi ci rivedremo al prossimo video.